Musica Il quarto compleanno di Senza Barcode che ha organizzato per questo evento Senza Barcode c'è la Bobba un evento con varie tavole rotonde, vari convegni e oggi sabato 24 settembre c'è stato un convegno sulla famiglia, sul diritto di famiglia e ne abbiamo parlato insieme ad altri relatori anzi abbiamo ascoltato insieme ad altri relatori che poi dopo intervisteremo anche Dario Accolla che è uno scrittore, un blogger, un blogger che si può leggere sul Fatto Quotidiano tutti questi temi un po' si intrecciano appunto su quello che è il tema che era il titolo appunto di questo piccolo convegno che era il nuovo diritto di famiglia cioè praticamente riusciamo, io questo che voglio chiedere, a Dario Accolla un po' non solo come osservatore politico ma anche intellettuale secondo lui se è questa Italia pronta a elaborare una nuova serie di reti, di regole in qualche modo ecco, rete no, magari di regole per governare nuovi fenomeni che si prospettano oppure è tutto sempre una trauma, uno sconto, una crisi, un'emergenza che non riusciamo ad affrontarla ma in Italia ci sono forze tra di loro in collisione, tra di loro opposte se vogliamo per cui abbiamo una parte della società civile che è pronta o che è addirittura protagonista di questo cambiamento sociale e poi abbiamo dall'altra parte le resistenze e questo in realtà è un periodo di crisi e quando parliamo di crisi non parliamo solo della crisi economica ma una crisi globale se possiamo utilizzare questo termine dove per crisi non si intende necessariamente distruzione o fine di un qualcosa ma molto spesso ha crisi anche un attraversamento, un passaggio tra un sistema e l'altro è normale che tutto ciò che è un percorso di transizione genera delle paure genera... non si sa cosa si va incontro, quindi è normale e allora sta alla società trovare la soluzione per quelli che possono essere nuove esigenze e quindi dalle nuove esigenze si passa ai nuovi diritti i temi dominanti in questo periodo sono le nuove famiglie, i flussi umani il problema appunto della migrazione per esempio il Fertility Day è forse una risposta sbagliata al fatto che abbiamo una denatalità in Italia e si ha magari paura che, secondo quella che è una narrazione politica che va molto in voga in questo periodo che ci sia questa invasione da parte degli altri brutti e cattivi ecco, sono tutti sintomi di un processo di transizione profondo, di medio periodo e poi le risposte alla fine avvengono nel qui ed ora e sono sempre risposte parziali e quindi oggi abbiamo dato delle risposte per quanto riguarda per esempio gli unioni civili e le nuove famiglie secondo me attraverso un processo graduale e stratificato si potrà arrivare a un maggior progresso sociale Allora, le unioni civili abbiamo visto insomma che è stata una questione portata avanti in Parlamento con molte polemiche e poi alla fine in qualche modo quello secondo il mio punto di vista si è rinunciato appunto alla possibilità di adozione, quindi la step child adoption del figlio naturale del coniuge in qualche modo però io una cosa volevo chiedere insomma praticamente si è ritenuto necessario regolare, quasi consentire queste unioni civili non equiparandole al matrimonio civile quando poi in realtà non mi sembra da nessuna parte sia proibito a due persone allo stesso sesso di sposarsi quindi praticamente è quasi una ammissione che c'era una proibizione che in realtà non c'era perché non c'è esplicitamente una proibizione io quello che volevo chiedere è questo insomma tutta questa serie di iper legalitarismo nel senso di normazione eccessiva di fenomeni che dovrebbero essere liberi secondo la teoria liberale di un Stato liberale per cui tutto ciò che non è espressamente roibito dovrebbe essere consentito poi alla fine non ci ingabbia in una serie, una rete che è difficile poi perché poi regolarmente in Italia non applicata di norme non applicate quindi in teoria c'è tutto però poi alla fine non si riesce a farle applicare è un discorso un po' complesso perché è vero che non c'è scritto a nessuna parte che è vietato il matrimonio tra persone dello stesso sesso però di fatto non era neanche permesso poi ci arriviamo a una sentenza che è quella della Corte Costituzionale del 2010 che dice attenzione nella Costituzione non c'è scritto che è vietato ma perché non era previsto e quindi se non è previsto non è detto però che possa essere fatto e quella sentenza invitava il legislatore a creare un istituto giuridico che fosse omogeneo al matrimonio e questo poi è venuto in effetti poi è vero che se parliamo di valori io sono d'accordo con te dovremmo vivere in un mondo in cui certe cose dovrebbero essere di per se stesse poi c'è l'applicazione delle leggi ci sono i fenomeni di ordine sociale tutto questo nasce perché le coppie per la legge dei riunioni civili in Italia e nel mondo nel mondo abbiamo i matrimoni nasce perché a un certo punto le coppie dello stesso sesso si sono rese conto che avevano gli stessi problemi delle coppie sposate e hanno chiesto di essere trattate come le coppie sposate avendo dei problemi quali che ne so la questione patrimoniale dopo la morte di uno dei due partner le pensioni di reversibilità l'affidamento di un bambino nel caso di una separazione eccetera eccetera e allora si è portato avanti un processo che poi ha portato alla creazione o di istituti separati come le unioni civili o l'allargamento del matrimonio come appunto per il matrimonio egualitario comunque sì insomma questa io spero almeno dal mio punto di vista che non sia questa regolamentazione non sia la pietra tombale di possibili progressi verso una eguaglianza delle persone come appunto sulla Costituzione che è scritto a prescindere dalla razza dal sesso dalla religione e così via pur non essendo omosessuale almeno per il momento insomma mi sembrerebbe la cosa più appunto più opportuna per uno stato di diritto Dario Accolla possiamo leggerti sul fatto quotidiano abbiamo detto ti interessi in particolare appunto di materia di diritti questioni omosessuali perfetto perfetto infatti questo volevo dirti e ho sentito anche magari se ci vuoi accendere qualcosa che stai scrivendo un libro sì allora per completezza ho una pagina sul fatto quotidiano e poi sono cofondatore insieme ad altre persone di gaypost.it che è un giornale online un attestato online che si occupa proprio di questioni LGBT sì tra le varie cose mi piace scrivere l'ultimo libro che è uscito è un libro sul bullismo omofobico anzi sul linguaggio omofobico e quindi sulla relazione che c'è tra questo e il bullismo adesso mi sto appassionando della questione del gender e quindi sto lavorando a questo progetto in cui cerco di sfatare tutto il castello di bugie che è stato edificato attorno a questa fantomatica ideologia del gender scherzandoci un po' sopra anche perché a volte bisogna sorridere in studio di queste cose perfetto allora Andrea Colla se ci permettiamo se possiamo di dare gli appuntamenti su LibreTV dove troverà Gay Pride di varie parti d'Italia e anche il Family Day che ho seguito personalmente perché LibreTV ha come sottotitolo spazi di parole abbiamo spazi a tutti cerchiamo di capire quindi di essere presenti per capire per conoscere e capire quello che pensa la gente e una sezione dedicata proprio ai diritti delle persone certi diritti chiamata con dei video soprattutto qua di Riccardo Cristiano che insomma sono molto dedicati alla materia gay diritti dei gay addirittura con conversazioni con dei sacerdoti molto possibilisti in materia quindi ringraziamo Dele Accolla e bocca al lupo per questo grazie e bocca al lupo